per cercare di fare la squadra proprio come la Longombarda, vi dico la verità ho pure cercato qualche giocatore della Longombarda, Aristoteles lo sappiamo ci sta però, non vedete perché è di qualità superiore, quindi è inutile che lo andiamo neanche a chiedere, ho provato a cercare sia Sella, sia Cavallo, sia Falchetti e Bengoni, non ci sta niente, c'è soltanto un Cavallo praticamente, Joshua Cavallo, che è un terzino sinistro, ma, proprio chi è australiano, madonna, c'è Cavallo ci sta a 6-20 sarebbe proprio mi dispiace sto fatto, pensavo sinceramente che ci stesse tipo Speroni, se ci fosse stato Speroni avrei schizzato alla sedia, vabbè, lasciamo vedere, comunque stiamo su Fili da 22, carriera allenatore, la Longombarda non siamo iniziato, non abbiamo iniziato male più o meno penso al campionato, cioè il campionato, i trasferimenti e roba varia finirà qui non abbiamo altre richieste, abbiamo una partita contro il Sotto per cercare di mettere un pochettino bene sulla rettaria dopo una bella mazziata che abbiamo becchiato cambierei sì, magari Musi lo lasciamo a sinistra-destra, lo voglio sempre invertire, perché Neyman, visto che è anche turnover, magari lo facciamo giocare nel secondo tempo giocavo così e poi vediamo, dai ti serve una vittoria, ok, grande mi piace il pressing, mi piace il pressing perché è così forte, dammela piano stavalla mannaccia a te ce la puoi fare, ce la puoi fare di test va bene, questo è fare si sono appoggiati in 60 va bene, va bene questo è stato un bel fallo di strategia non mi è piaciuto quel salto ma giocano tutti quanti come Musi Man cioè buttano la palla buttano la palla avanti e vanno vabbè a volte ma che fai uscire? vai vai, esce, esce mannaccia era un bel tiro prima gli ha azzeccato un bel gol Hancock almeno la prendono ultimamente non manco quello eravamo veramente imbarazzanti a volte no, perché gli fai staccare a nano? no potevamo come si chiama la palla che forza che vuoi forzarti bello bellissimo calcetto proprio calcetto calcetto proprio mamma mia questo tira bene da lontano c'è un capello che qualcosa 7 poi Cristiano Ronaldo quindi normale che c'è i veri buoni guarda lì pan 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 avevo tirato di prima però lui ha pensato bene di stoppare e tirare perché ha capito che ma io non lo so si mette ma quel credino si è messo davanti vabbè c'è tanta confusione tra ma che no raga che hanno fatto scusate uh devo vedere se ci sta Crisantè e va mia eh c'è uno sprint limitato e io te la do Hancock ma tu non devi guardare la porta troppo forte il stato che si piava palla segnava centrocampo porca miseria uuuuh 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 ma non piglioni e vai ah e ghiame ah allontana la minaccia qui allontana la minaccia vada giù eeeh vai Musi vai Musi vabbè andiamo andiamo perché fai dei titoli spettacolati ma non segni mai 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 ma che ci fa vedere il culo di questa dai mai era buona come palla e lo so che fa uuuuh il cuore nostro c'era un fallo di mani che abbiamo fatto noi quindi assurdo comunque è importante rassegnare guarda qua questo è fallo secondo me non l'abbiamo presa con le mani non l'abbiamo presa con le mani non l'abbiamo presa assolutamente con le mani importante che segni noia devi ridare però chissi meno male che c'è il portiere no 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 perché questo butta la palla avanti e vai meno male meno male comunque 84 non dovremmo avere più problemi penso due gol non li dovrebbero fare che ti do che stai l'automarcato bravo spazza spezzagli le gambe entra 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 vabbè personalmente penso che forse abbiamo rischiato troppo rischiamo troppo riusciamo a vincere ma rischiamo troppo secondo me cioè a volte veramente è dura riuscire a secondo me se loro ingarrano la partita giusta e noi il portiere un po' così così soffriamo tanto Gnonto è cresciuto mi è diventato un'ala mi fa piacere Gnonto quindi Gnonto è diventata ala è anche un non è neanche niente ma Gnonto ma se ti volessi far diventare in dieci settimane mi diventi una TT forma pessima e mi sa che lo facciamo diventare un ATT Gnonto dai dieci settimane sono pochi ce la fa ce la fa ce la fa anche se penso che non sia molto alto eh però ma si dai lo facciamo diventare un ATT Gnonto magari diventa forte non lo so visto che stiamo in attanto poi penso che a TT a T c'è a D penso che non ci voglia tanto tempo no nel frattempo vediamo un pochettino mercato se succede qualche cosa giocatori osservati giocatori osservati oh ok un'intera altra per filmare eh vabbè ma purtroppo abbiamo perso il giocatore eh ah pensavo che fosse c'è qualcuno di Minkovic Savic nato a Liverpool e vabbè ci sta mi chiede l'offerta per mancata risposta in tempi brevi no non era quello la scuola dice ha detto interessate offrire Youngton più un conguardo per Smith allora Smith Smith 26 anni a T a T a T a T a il giocatore che citate è un terzino adesso 65 28 anni tanto noi questo Smith non lo utilizzeremo eh offerta ma vai accetto dai generalmente non accettiamo praticamente quasi mai stavolta ho voluto accettare ci siamo presi che era in giapponese ma come poi era in 68 c'ha 28 anni non cresce più perché il mio procatore vediamo si dice a tavolino con lei per discutere i termini ah già è vero Youngton ok trattiamo no ma che sei sei arrivato d'accordo con Bangtong andiamo a trattare a me ricordo ma ne era ah vedi ce l'aveva la faccia scusami perché prima non c'era la faccia si pede attuare 4 e 7 sarei sicuramente importante ma non guagni erai mai 4 e 7 cruciale cominciamo va bene facciamo 4 anni dai 2 anni facciamo 3 contento ignoriamo la clausola 4 allora non esiste proprio bello mio ne do 2 bonus d'ingaggio non esiste proprio no no cioè non mi dispiace ma non cioè non esiste non spendiamo cioè non mi metto una chiavica di giocatore con tutti questi soldi a 4 e 7 mercato offretta per il prezzo di firci si allora delega prestito con diritto di riscatto no facciamo solo prestito di un anno ok offretta per il trasferimento di Rainer ma Rainer non è terzino destra no 24 no stai qua stai qua dove vai dove vai Johnson scrignale è andato al Manchester United speriamo che il fincio riusciamo a mandarlo accordo per questo edificio per un anno perfetto accettiamo accettato nel senso che accettato si non ci dovrebbero essere problemi vabbè l'abbiamo andato in prestito il mercato è resoluto mensile squadra primavera aggiornamento è scaduto la trattiva in corso vabbè rifiutato ok chi mi ha trovato Bernardi Rizzo e Parisis allora questo lo rifiutiamo pure questo pure questo massimo 62 82 metri 67 che è il terzino no no mi stai cercando giocatori che fanno schifo te lo voglio dire ce ne possiamo andare allora questa è coppa tutte le coppe dobbiamo fare fammi capire un attimo una cosa il campionato inglese è tremendo ci sono 50 partite da fare faremo dei cambi allora Agnotto è diventato un alla destra e lo andiamo pure a far giocare a sto punto ok qua ci lasciamo sempre lui Musi lo facciamo sempre giocare facciamo giocare lui Barrett facciamo riposare no difesa ok no beh diciamo che qua vediamo di ok occhio eh ok meno male meno male che palla che ha dato è andata una palla ho detto a chi ha becchiato e stava beccando rent a 1 andiamoci andiamoci non riesco bello 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 sarò sincero ho crossato ho crossato ho crossato però ha fatto un bel dribbling eh sto ragazzo però ho crossato si fortunato no eccessivo il suo spazzamento c'è allora signor fifa e lei è inutile che mi fa fare un gol d'ammazzo e poi dopo me lo fa subire all'istante cioè se proprio vogliamo fare almeno fammi subire il gol al sessantesimo e vabbè per via centrale è proprio difficile entrare vabbè eh bravo agnonto eh la mette in mezzo buah ma hankock tu di testa segnare ma poi non puoi segnare sto hankock fa paura eh metti davanti metti davanti metti davanti gliela da subito no si vede che gliela da mamma mia mamma mia questo è fallo arbitro vabbè questo è bravo sto ragazzo hai piedi buoni c'ha quando buttavo la palla avanti così ecco è difficile proprio ma che vi alzate tutti alzare la mano ma che balzate la mano ve l'ho detto quando entra una cosa in aria e chi vuoi pigliare cioè piglia niente vada lì la stava pigliando pensavo di riuscita occhio ah dai no dai ma perché cioè a centrocampo abbiamo il buco proprio cioè a volte non lo so comunque si vede quando non ci sta Iates Hates Portillo non è colpa tua eh guarda vedi vedi lui non segue vedi non segue andiamocene andiamocene ma questo dimostra che nel calcio non è sempre importante avere il possesso palla ma sono le occasioni che ti procuri che fanno la differenza e David no ma che è successo ragazzi cioè in una partita due gol a culo è tremenda sempre lui segna non so io non ho fatto niente cioè provate a tirare poi che è successo guarda qui ma quale pressing questa viene rimbalzata la palla giuro che viene rimbalzata la palla no gli è rimbalzata la palla io non ho premuto abbiamo segnato ma vai vai forse dovevo far tirare a quell'alto che era meglio poi ma come le piglia ma porca di quella miseria andiamo 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 dai quello sbagliato col subito in solito così si dice anche se magari e vai oh ti di sempre le botte esagerate stavolta invece l'hai strozzata zitto e vabbè basta è incredibile siamo stati fortunatissimi vabbè siamo stati sfortunati secondo me aspetta che stai in fuori gioco bella questa vai che pecchiato veramente che pecchiato potrebbe essere una bella partita però è girone quindi in teoria ci possiamo ancora credere secondo me sempre da vedere allora abbiamo fatto un po' ruotare abbiamo visto che ignonto comunque non sembra tanto male però oh chi è che è diventato pinto il basiliano che abbiamo scoperto che è Matti porca miseria è già diventato 56 questo ok quindi taccante mobile 4 settimane lo facciamo questo secondo me tra un po' ce lo portiamo subito all'istante ce lo portiamo 56 ma io penso che scusate no questo viene già in prima squadra dai la facciamo così vivaio eccolo qua è un metro e setta metro e 76 a nero a metà e 90 no metà e 76 att sempre un po' più alto di quell'altro quindi lo proviamo sicuramente in prima squadra e a questo punto ignonto non gliela cambiamo più lo faccio diventare sempre in ala ignonto lo lasciamo ala ignonto è meglio lasciarlo ala ignonto così secondo me è troppo basso no no è nobile sbagliato nonto vediamo di crescita ok va bene ava la passiamo sempre risolvi perché che è successo ma veramente stai facendo questa sta facendo le cose i mondiali che stai facendo ci stanno inguaiati veramente questo si va a fare un portiere di serie è così forte addirittura questo e vuoi salvare dobbiamo salvare per forza abbiamo mezza squadra sfasciata praticamente quello che c'era burri ok si non cdc mongomini mamma mia mettiamo vabbè pinto lo mettiamo in attacco sette anni sta crescendo cdc barrett chi è che può giocare qua che ci mettiamo utter giochiamo con utter di qua vai che me la voglio sempre portare eventualmente lo facciamo giocare Musi sta un po' stanco ma sicuramente non mi può giocare cambiamo solo la maglietta dai non dico che potrebbe essere Aristoteles perché è basiliano ma dai ma non ha la struttura madonna questi sono forti madonna sono forti vabbè raga ma così siamo imbarazzanti però cioè non ha spazzato non è arrivato non corriamo a prendere la palla un tiro che sembrava un pallonetto non era un tiro vada lì non poteva sbagliare da lì avevo tutta la porta davanti a sé ma allora il portiere vai mannaggia stavamo facendo un giropallo da 30 minuti siamo troppo non pensavo che l'avrebbe presa il portiere faccio oh una ribattuta poi cioè ha fatto sta palata prima l'ha fatta vabbè potete riparare quello di prima allora puro istinto e salva risultato pallone in mezzo hai pinto vai vai pinto questo è eh vabbè questo è pallo arbitro eh vabbè ok che fa ma che hai fatto no vabbè ma stavo scherzando ma che buona lettura quello l'aveva presa andiamo non te la posso dare anche la verde ma dici sempre lo stesso occhio 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 cioè ma voi avete visto la preparazione quello non è saltato proprio si è fatto un cross in mezzo si è guardata la palla per 20 minuti eh vada lì vada quello vada immobile ai 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 ma non è che ho capito che ha fatto è in buona posizione bravo portiere c'è quando scattano così è difficilissimo prenderli vabbè si guarda attorno per cercare l'opzione migliore e che fa è che forse riusciamo ad andare in contropire manca ancora un quarto d'ora alla fine il possesso del pallone per il minuto oh no la devi segnare bello mio e vai vai bravo non so come abbia tirato eh non so come abbia tirato esterno pensa dove vai dove vai dove vai dove vai che ti stanchi che peccato questo è pure il ragazzino eh se siamo fortunati ah ah vabbè se siamo se siamo sfortunati invece non prendiamo una mazza diciamo che una vittoria ci sta però si fatica eh si fatica veramente tanto però io qualche bricio qualche speranza la vedo mi taccio e vedo c'è c'è e ho visto che anche il ragazzo giovane potrebbero essere male vediamo un pochettino aggiornamento mensile vabbè ci sta pinto senza parole mi se non mi è piaciuto che mi ha trattato le avevo detto di non essere a 100% avevo bisogno di riposo invece ha continuato a mandarmi in campo continuo di impegnare ma che domanda è cioè questo è cretino eh c'è l'aggiornamento rifiuto a giocatore muovi vorrei qualcuno di forte non voglio si 66 madonna magari ha di cadaveri cioè il migliore è questo no non vanno bene mi dispiace non vanno assolutamente bene vabbè ragazzi questa parte penso la possiamo terminare qui dobbiamo metterci sotto di impegno ci vediamo nel prossimo video vai